Buongiorno, sono l'azienda agricola Contarina, la Contarina di Tamellini Maurizio e abbiamo fatto questa sperimentazione su un vigneto vecchio che ha il mal di lesca. Era un vigneto che doveva essere stirpato e siamo stati messi alla prova. Questo è il vigneto ora dopo i trattamenti con biodea. Vi faccio vedere un po' i grappoli di questa corvina. Qui è stato fatto trattamento con la motosega per togliere le parti malate dal mal dell'esca. A seguire sarà dato il distillato di legno sulle ferite. Molte di queste piante presentano questa malattia e sono stati appunto trattati con la motosega. Nonostante questo vediamo anche dei bei grappoli d'uva. Guardiamo il fogliame. Il signor Tamellini ha fatto dei trattamenti seguendo le indicazioni date. Nelle fasi più critiche è stato costretto ad aggiungere del rame sempre sotto diciamo gli standard imposti dal biologico. Questo uno scorcio dell'altra parte. Il vigneto trattato con queste problematiche è 6.000 metri di corvina e 6.000 di garganega. Ora finita la vendemmia faremo un ulteriore sopralluogo per vedere anche l'olivo che è stato trattato. L'agenda Tamellini fa un olio di ottima qualità. Grazie a tutti.